Salve ragazzi, benvenuti ancora una volta su Opinione di Luzzo, un canale, una galazia, una qualità logicamente e per tutti voi che naturalmente siete soliti ad ascoltarmi e io me ne sono grato e naturalmente ne sono grato ancora di più per tutte quelle persone che poi hanno fatto circolare altrettante notizie con un altrettanto risalto di cui ho parlato nei video precedenti come magari voi avete anche visto e se non l'avete visto vi sto dicendo magari se desiderate farlo veramente fatelo insomma ecco vedete voi se ne trovate curiosità o meno quello che vi voglio appena accennarvi è un tema che riguarda molto il mondo femminile ma penso che ormai prende globalmente tutti insomma di qualsiasi senso ci sia e anche di diversità che è quello del miglior metodo per dimagrire è un tema anche questo molto affrontato da tante persone più o meno esperti in materia più o meno che vogliono creare un'attività economica e logicamente ognuna dà la sua soluzione come è giusto che sia la pluralità di vedute e la pluralità di metodi ci siano poi dopo logicamente ognuno prende per sé quello che poi è più efficiente più efficace soprattutto è più efficace per se stesso nel risultato logicamente io vi porto a ripetere che il metodo di come dimagrire certo è assoluto logicamente io ce n'ho uno come sempre pieno di luzio ve ne porta uno in risalto e a livello storico vi dirò ancora meglio è da diverso tempo su internet come attività e la soluzione è praticamente un po' per demolire queste grandi attività economiche come chi ha creato vita snella nome un programma giorno e notte un nome un programma poi mi viene più sani più snelli un nome un programma logicamente cosa vogliono fare già da anche da parte giorno e notte che uno può un attimino però più sani più snelli vita snella si capisce che voglio dire attenti alla linea insomma ecco molto attenti alla linea però per me è un'esca per la lodole giorno e notte logicamente anche lì non si è creato sul nome la volontà di ciò che vogliono fare però logicamente sono inseriti in un contesto in cui poi giorno e notte è nel dettaglio l'efficacia della dieta logicamente con la pillola per me tu pensa un po' c'è la canzone di Mary Poppsey con la pillola con un poco di zucchero la pillola va giù la pillola va giù forse anche lei era già una una persona premonitrice di quello che sarà stato quello sarebbe stato nel futuro per giorno e notte e giorno e notte sicuramente l'indiatore ha visto il film di Mary Poppins e ha fatto questa bella cosa e ne siamo tutti molto creati e contenti sul discorso andiamo per stringere i tempi ragazzi non so che siete ancora qui in attesa di dire ma allora qual è la tua ricetta per la dieta la mia ricetta per la dieta è un bel e buon sonno soprattutto di resistenza ragazzi un sonno di resistenza che io l'ho lanciato su facebook come uno sport logicamente e più che altro da parte di un mio noto persona che naturalmente voi tutti conoscete dato che anche lui ha partecipato attivamente a questo canale che è il mio carissimo amico Andrea quindi vedete insomma andate a visualizzare sulla pagina di facebook sonno di resistenza allora se dormite tanto logicamente è sicuramente abbassate quello che è i zuccheri grassi perché logicamente nel sonno per o male non ingrugitate niente ma tenete quello che c'hai quello che avete ok immagazzinato in un tempo storico precedente quindi allungando i tempi di sonno logicamente con un'alimentazione quindi con un mangiare in poche per quelle poche ore di tempo che siete svegli naturalmente non vi dovete agozzare ok però il sonno più prolungato che sia questo bel sonno di resistenza non chissà affannati in iperattività adesso giochi di 12 ore e cibi senza zuccheri senza grassi senza niente mangiate solo una foglia di insalata che mi sembra degli esercizi molto degli sforzi anche spiacevoli non lo so su voi un bel sonno di resistenza e molto rilassante anche perché tutti ambiscono durante la giornata che bello riposare nel proprio lettone stanno lì nel lettone lo so vedete voi un bel sonno di resistenza questa è la risposta di opinione di Luzio data da Andrea da diverso tempo su facebook andate cliccate mi piace e iscrivetevi a presto ragazzi